Scevantona a Golcar, non sarei mai andato alla Juventus, come tutti. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Cosa fanno un giocatore di calcio e un DJ in un'auto senza conducente mentre sono spiati dalle telecamere? Semplici, rendono Golcar, Cancelletto Golcar, una serie web originale, fresca e divertente, soprattutto nei contenuti. Dopo il successo della prima stagione, per la seconda il conduttore radiofonico e DJ Carlo e Carletto Nicoletti si è recato nel Salento per incontrare sei giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale. Con ognuno di loro per trascorrere una giornata per le strade del Salento ascoltando le loro storie, aneddoti, incontri che hanno cambiato anche il loro destino calcistico. Il sesto di questa serie è a Viercevanton. È amato a Lecce, dove ha fatto la storia. In serie ha o segnato più gol. Nel 2001 arriva a Lecce. Avevo 20 anni, ero in Uruguay, mentre facevo la Copa America sono stato contattato per venire in Italia. Tutti mi hanno amato dal primo giorno che sono arrivato. Giacomo Mazzi è venuto con me e ci ha parlato del calore del pubblico. Amo questa città. Mentre ero al Copa America ho ricevuto questa proposta, non conoscevo la piazza ma ho accettato. Quando sono arrivato a Milano, sono arrivato con un elegante abito blu, perché è il paese della moda. Ho fatto 24 ore in questo vestito, che era davvero orribile. Sono andato a Cavalese, in ritiro, e tutti mi guardavano. Inizia molto male, ride, NDR. All'epoca l'allenatore era Cavasin, ma io avevo poco perché era stato licenziato dopo sei mesi. Delio Rossi si è presentato. Ho segnato molti gol con lui ed è stato molto importante per me, mi ha rovinato, ho un'amicizia speciale. Com'è stato l'impatto con il Lecce? Parlavo poco italiano, per fortuna c'era Giacomo Mazzi con me. Abbiamo pensato di uscire tranquillamente in città, perché nessuno ci conosceva, ma invece non era così, prima della premier non stavo bene, ero un po' spaventato, ma l'ho detto al presidente in modo quasi audace. E con il Parma ho segnato dopo pochi minuti, è stata una cosa incredibile. Eci. 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 Eci.